Il comune si chiamerà Laterina Pergine-Valdarno perché così è scritto nella proposta di legge. Katia Donnini e Simona Neri, rispettivamente sindaco di Laterina e di Pergine-Valdarno, festeggiano a poche ore dalla chiusura delle urne l'unione dei loro due comuni. È stato un progetto che evidentemente è stato compreso circa dal 2015, che con la chiusura dell'unione dei Tricolli i comuni di Pergine-Valdarno e Laterina hanno investito su un percorso a due, portando avanti gestioni associate su tutti i servizi. Quindi evidentemente la comunità ha creduto che con la fusione già due comuni che lavoravano insieme, dipendenti che già si conoscevano e sicuramente apportavano dei miglioramenti nella gestione dei servizi, nella velocità di risposta, hanno deciso di fare il passo successivo che a questo punto anche tramite alcune facilitazioni, quindi una contribuzione che viene dalla regione toscana e anche dallo Stato, molto veramente molto ingente per la dimensione territoriale, sicuramente potranno ricadere con investimenti sul territorio e con il potenziamento ulteriore dei servizi. In Valdarno infatti il sì ha vinto per soli 19 voti, in Casentino invece serviva il sì di tutti i comuni coinvolti nelle due proposte, ma come già sappiamo a Chitignano e a Chiusi è passato il no. I tempi sono quelli dettati comunque dal Consiglio regionale, sarà l'istituzione della legge, la fusione dei due comuni al primo gennaio 2018, l'arrivo del commissario prefettizio e poi successivamente le elezioni e la prima tornata utile in primavera. rimarranno i due municipi separati ovviamente, la Terina e per Ginevaldarno, i due centri storici che comunque devono essere tutelati perché sono patrimonio storico di questa nuova comunità che si sta realizzando.